Nella nuova edizione di Amici Raimondo Todaro non ci sarà in veste di professore. Ecco chi prenderà a settembre il suo posto. La 24esima edizione di Amici parte a settembre 2024 con una nuova classe di allievi e tante novità che verranno rivelate nel corso della messa in onda del talent. In questi giorni è arrivata un'incredibile indiscrezione che vede protagonista Raimondo Todaro. Secondo quanto riportato da D'Agostia, il ballerino di latino americano non sarà dietro la cattedra nelle prossime puntate. Ma verrà sostituito da un'altra figura. Il portale fa sapere che la sua assenza dovrebbe essere stata già confermata. Amici, si cambia. Raimondo Todaro non sarà più insegnante di ballo. Il ballerino e coreografo ha occupato la poltrona di professore di ballo dal 2021 al 2024. Chi prenderà il suo posto? Da quanto trapelato, sembrerebbe che Todaro non ci sarà nella prossima edizione. Anche se ovviamente non vi è ancora nessuna certezza. Intanto, però, è già spuntato fuori il nome del suo possibile sostituto. Amici, chi sarà il sostituto di Raimondo Todaro? Arriva un ex allievo. Non manca molto all'esordio della nuova edizione di Amici. I telespettatori non vedono l'ora di scoprire chi saranno gli allievi ma, soprattutto, sono curiosi di scoprire il cast dei professori. Una curiosità dettata dal fatto che, secondo D'Agospia, Todaro non sarebbe stato confermato dietro la cattedra dei professori e ci sarebbe già il suo sostituto. Da quanto trapelato, al posto del maestro potrebbe arrivare Adriano Bettinelli. A riportare tale voce è stato Amedeo Venza sui social, che ha fatto sapere dell'arrivo del ballerino. Quest'ultimo è stato un allievo della scuola nel 2009 e, dopo l'esperienza vissuta, ha avuto modo di ampliare la sua carriera e di lavorare in giro per il mondo. Oggi, infatti, vanta numerosi successi e tante soddisfazioni e ha ballato accanto ad artisti di fama internazionale. Non sorprenderebbe, quindi, se fosse stato scelto come insegnante di ballo. Ma a quanto pare, oltre al nome di Todaro, c'è un altro professore il cui futuro nella scuola è in bilico. Parliamo di Anna Bettinelli. Al momento, infatti, non ci sono ancora ufficialità sulla sua presenza nel talent. La speaker radiofonica, dopo un anno di assenza, è tornata nel 2023 a rivestire il ruolo di professoressa di canto e non è da escludere che possa tornare ad essere protagonista. Sono invece confermati i volti ormai quasi fissi del programma, ovvero Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. La showgirl lo ha annunciato sui social appena dopo la fine della 23esima edizione. Grazie a tutti.